benvenuti ragazzi benvenuti e bentornati ragazzi benvenuti benvenuti a questo nuovissimo video oggi video un po particolare un po particolare perché ragazzi ci troviamo fai vedere tutta gente è l'inizio del party al comparto quasi parti quasi una festa presto a pochissima quasi parti comunque ragazzi oggi ci sta un botto del gente al tanno un po arrivano arrivando un po questo parte sta iniziando adesso egisa anche un voto di gente come dicevo un po particolare un po questo poco come alla cazzo di cane diciamo e oggi andrò a fargli qualche domanda a qualcuno che sta qua in giro qualcuno un po particolare vedo anche un babbo natale se riesce a intervistarlo ovviamente dopo che come al solito già lo sapete ragazzi vi siete iscritti al canale attivata campanella mettete like commentate e fa tutte cose che dovete fare sempre dagli e dagli e andiamo a vedere questa gente così a fare qualche domandina allora qua ci stanno sti due sirene i due sirenetti stanno anche speriamo che youtube non ci blocca il video allora vediamo mettiamo questa domanda state ballando immaginatevi più tardi calano le tenebre qui si vede un po' più affuscati quindi state ballando tutti quanti tutti quanti sono affuscati dalle notti tenebre e vedete una persona che vi piace che vi intriga cosa fate per attirare la sua attenzione tolgo le conchiglie togli le conchiglie cosa c'è il pesciolone sotto le conchiglie c'è il pesciolone ecco lo sole tu invece cosa fai per attirare l'attenzione di sta persona che ti piace sono molto diretto andare là dire che mi mostri l'aragosta gli mostra l'aragosta e tu però cosa gli mostri no è quello che mi mostrava l'aragosta il cannolicchio il cannolicchio il cannolicchio e voi ragazzi invece cosa gli mostrate fatemi notare nei commenti loro il pulpesciolone a lui il cannolicchio ragazzi è la prima volta che venite qua a stopparsi? no già siete andati voi siete? siete veterani siete veterani ci sta pure ci sta pure lui ragazzi per fare una cosa tra poco inizia la serata ok si abbassano le tenebre quindi si vede tutti un po' affuscati non si vede niente c'è sta un tipo una persona che vi piace che vi interessa ok cosa fate per attirare la sua attenzione? tu che fai? c'è qualcosa per poi gli attirare l'attenzione o vai in diretta di you? che fai? non so è il contrario alberiano no avete voluto la parità e mo lei brava 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 e tu che fai? non fai niente non fai niente non fai niente e resta così seduta a piegarsi sua diciamo poi invece ragazzi che fate per attirare la sua attenzione? c'è sta lui come ho detto offuscato non si vede a voi vi fare bello vi fare? io sono fidanzata quindi non fai niente non fai niente beh non fa niente e tu invece? non fai niente ragazzi con loro si può fa niente si si può fa niente allora ragazzi qua c'è sta babbo natale come ho già d'occhiato prima e lui babbo natale perché che c'è stai a fa qua? ci sei venuto altre volte qua? no la prima volta c'è sempre una prima volta giusto? senti babbo natale troppo inizia la serata calano le tenebre cade il buio della notte c'è sta una tipa un tipo che ti piace che ti interessa cosa fai? per farti notare oltre la barba che fai? no appunto non te lo uomo l'importante è che mi do ieri dal cazzo la befana oh vieni? e poi è solita regola gin tonic a go pro io lo dai il gin tonic io lo offri? offre il gin tonic babbo natale che fai? offre il gin tonic quindi alla prossima tipa un tipo che ti piace io offre il gin tonic no la tipa la tipa la tipa gliappa allora, è la prima volta che venite qua a sta festa? si c'è sempre una come, come babbo natale c'è sempre una prima volta ma è anche altima? è il primo e ultimo no perché? non ti piace? no magari stasera succede qualcosa e chi è non lo se ma lo so infatti a tal proposito tra quanto e miejsce la selata quindi scalano le tenebre inizia l'aria scalano le tenebre e si alza iniziano al polemico questa è una persona un tipo che mi piace cosa fate per attirare la sua attenzione eeeh ha funzionato si ha funzionato tu invece cosa fai per attirare la sua attenzione faccio poi la sua attenzione cioè cosa fai funziona raga funziona allora raga innanzitutto è la prima volta che venite qua a sta festa no sono almeno due anni capitano film che viene sempre a queste feste tu invece pure tu la vieni sempre ah ma tu c'è pure la maglietta è della volta è l'ultima volta la maglietta allora tra poco calano le tenebre e si alza l'alcol diciamo giusto? ah vedete una tipa un tipo che mi piace cosa fate per attirare la sua attenzione eh dipende magari mi faccio vedere il costume gli fai vedere? mi faccio vedere il costume il costume che costume c'hai? in questo caso da scherpino vado a bordo cazzo è vero eh ci sta ci sta che cosa fai per attirare l'attenzione che sai che hai notato hai addocchiato le mani da lui tu sei sei assessuato gli dico guarda vado a bordo cazzo e lui ci mette il cazzo e lui ci mette il giusto e quindi ragazzi avete visto qualcuno ha fatto qualche domanda ora tra poco vediamo come come continua la serata non so cosa riuscirò a riprendere quando caleranno tutte le tenebre l'alcol sarà alzato non lo so ci proverò e comunque nel frattempo ci vediamo al prossimo video mi raccomando iscrivetevi al canale ci vediamo tra poco che calano le tenebre iniziamo per il delino raga sciocari oh come on oh come on Oh 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 Sweet 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 Oh 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 Raimondo, Raimondo! Raimondo, Raimondo! Raimondo, 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 Raimondo! Raimondo, Raimondo! Raimondo, 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 Raimondo! Raimondo, Raimondo! Raimondo, Raimondo, Raimondo! Raimondo, 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 Raimondo! Raimondo, 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 Raimondo! Raimondo, Raimondo, Raimondo! Raimondo, Raimondo, Raimondo! Raimondo, 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 Raimondo! Grazie a tutti